Operazioni di partenza che hanno avuto inizio per la prima corsa di quest'oggi, premio Shear, una condizionata sui 1.500 in pista grande. Partiti in questo momento, cavalli della prima corsa, il favorito è Romantic Walk, è proprio il favorito che prende l'iniziativa dopo i primi tempi di galoppo, si porta in vantaggio nei confronti di Firexel, il gruppo è ben raccolto e completato da Sarbana che si posiziona in terza posizione ma è seconda corsia, poi Bloody Love e chiude il gruppo la femmina Because The Night. Prima parte di gara con andatura regolare, meglio svelta diremmo perché Romantic Walk chiaramente non sta facendo sconti a nessuno, ad un paio di lunghezze galoppa Firexel, poi in terza posizione c'è Sarban con in quarta Bloody Love e poi ancora a completare il quadro Because The Night con i 5 cavalli, in circa 5 lunghezze quando i cavalli sono all'imbocco della dirittura d'arrivo e Romantic Walk è sempre in vantaggio, tampinato da Firexel che ci prova subito al suo esterno, poi anche Sarban, Bloody Love e Because The Night, 800 metri dal traguardo con Romantic Walk che si guarda alle spalle, Firexel è il primo ad attaccare, al cui esterno c'è anche Sarban che si prepara, poi Bloody Love e Because The Night, il gruppo è veramente molto ben raccolto, con 3 cavalli su di una linea, Sarban dall'esterno tende a passare in vantaggio ma sono veramente molto vicini, ci prova Firexel, si accende la bagarra con Because The Night che dall'esterno ci prova ancora, poi Bloody Love dall'interno, Sarban che adesso deve difendersi dal ritorno di Romantic Walk con all'esterno Because The Night, i due che si staccano in lotta con Romantic Walk che prova a ripartire dallo slancio di Sarban che ci prova, nella fase finale sostenuto solo a braccia, Sarban che apre il pomeriggio dalle capanelle, nei confronti di Romantic Walk e Because The Night. Assegno subito il numero 5 dello schieramento, Alessio Satta in sella, il training è quello di Luigi Di Dio, i colori sono quelli della scuderia dell'Avvocato, seconda vittoria per il figlio di Poets Voice, direttamente al rientro, 5-4, è il primo ordine d'arrivo di questo pomeriggio, ma possiamo riapprezzare di nuovo le immagini, ma soprattutto l'accelerazione di Sarban che ha respinto prima Fair XL, poi anche il favorito Romantic Walk, immagini dei cavalli che si fermano ovviamente sulla retta opposta, e vittoria per Sarban che adesso può pensare a qualcosa di interessante, è tutto per la prima. Grazie. Grazie.